Cari amici, intanto un grazie a tutti per la partecipazione stasera a questo inquadro. Per la sottoscritta di qualità del Presidente del CNA di Palazzolo, insieme al Secretario Comunale, Sampo Branca, abbiamo fortemente voluto, coinvolgendo i nostri dirigenti provinciali, stasera qui presenti in particolare, grazie al nostro Secretario Provinciale, Bifo Giannano. E alla collega Mascia Carlitto, componente della Direzione Nazionale del CNA. Grazie. 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 ancora per la partecipazione e passo la parola al nostro Secretario Provinciale, Bifo Giannano. Grazie. 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 Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. parfois. Grazie. 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 giustamente perché noi siamo l'associazione economica non parleremo di tutto il programma dei tre candidati come dei cominci o nei binatti in comune perché la gestione in comune è complessa per i servizi, le problematiche per gli anziani la viabilità, la raccolta, del più del genere noi vogliamo soffermarci solo e esclusivamente sulle questioni economiche sulle questioni appunto che interessano e che secondo noi sono anche in questo momento prioritarie voi sapete, sappiamo tutti qual è la grave crisi che attraversiamo ormai da, questo è il sesto anno una crisi ormai che esistema una crisi che ha messo in ginocchio un po' tutti dalle imprese che hanno certamente tantissime tantissime difficoltà a tanti cittadini che sono sotto la toglia di povertà e che aumentano giorno per giorno per cui le questioni economiche logicamente riferite al comune e chiaramente non un sindaco una squadra amministrativa non ha, come dire, in sé una capacità di poter risolvere il tutto mi pare ovvio, mi pare scontato però una squadra che amministra bene che ha un proprio programma un indirizzo forte di coinvolgimento della cittadinanza a trovare i sistemi che possono rilanciare una economia è anche una questione fondamentale perché poi se si interagisce con le istituzioni provinciali con quelli regionali e quelli nazionali effettivamente si può tentare di rimettere in moto una economia che è a schifo dobbiamo dire che la provincia di Seragusa ha, a mio parere, potenzialità fortissime di buon'uscita da questa situazione che veramente mai dal dopoguerra si è avuto in provincia, in Zilia e in Italia e noi abbiamo quelle potenzialità fortissime perché siamo un territorio in cui le economie possono integrarsi dall'industria all'artigianato al turismo, all'agricoltura cioè noi possiamo attivare dei mix di intervento tra i vari settori che possono permettere di trainare questa provincia e diventare la lepre della Sicilia perché abbiamo una programmazione in atto perché ci sono investimenti fortissime che si possono fare sia pubblici che sia privati per cui è chiaro ecco che ritornando all'amministrazione noi chiediamo all'amministrazione nuova che sarà eletta ma anche a colore uguale perderanno le elezioni per poter, diciamo così, popolare perché una forza politica farà la minoranza ma un'altra potrà essere, come dire, di bungolo anche dall'esterno del Consiglio Comunale noi diciamo che occorre lo diciamo già subito occorre fare squadra noi in questo momento di grande difficoltà non vogliamo, non possiamo come associazione di categoria non tolleriamo più le liti tanto per farle dai partiti dalle amministrazioni eccetera dalle guerre continue noi vogliamo che si cambi idea che ci possa essere una squadra forte una squadra impegnata soprattutto sui temi dello sviluppo perché altrimenti i nostri figli possono andare in tutto il mondo ma da noi non resteranno di certo quindi abbiamo questa responsabilità forte di fare in modo ecco che passata giustamente una campagna elettorale in cui il dibattito può essere anche provente poi noi diciamo occorre fare squadra quindi chiediamo appunto una coesione istituzionale e qui risulta palattolo che le forze diciamo di palattolo che sono collegate alle associazioni datoriali ma che sono collegate anche alle associazioni sindacali hanno istituito così come abbiamo fatto a livello provinciale un tavolo che possa permettere di guardare innanzitutto prioritariamente ai problemi e alle problematiche che al comune non tutti e non a quelli che dividono per questo ecco stasera noi abbiamo anche dato come dire il documento che io lo sintetizzo abbiamo deciso di puntare su cose concrete e quindi i candidati avranno 10 minuti di tempo per rispondere per illustrare come pensano loro diciamo la loro visione di quello che un'associazione appunto di imprese e di cittadini propone poi avranno anche altri 3 minuti per poter replicare e poi Mascia concluderà diciamo questa sera abbiamo diviso il documento su misure di estreme di estrema urgenza e misure strategiche come dire di programmazione di un territorio logicamente noi poniamo le nostre cose dalla nostra ottica è chiaro che i candidati possono anche allargare parlare come dire anche di di ciò su cui intendono impegnarsi allora la prima questione di estrema urgenza che diciamo è quella di poter riuscire a far ripartire tutti quei lavori e interventi infrastrutturali margentini di recupero per permettere alle imprese soprattutto e i di poter diventare volano di un'economia anche locale vedete questo è un aspetto fondamentale fondamentale perché sull'edilizia sulle ristrutturazioni l'altro ieri hanno il governo come prima misura al territorio nazionale ha fatto come dire questa ha rinnovato diciamo il contributo per le ristrutturazioni per la diversificazione energetica negli edifici appunto perché l'edilizia è il volante quindi noi diciamo partendo dal piccolo comune che però poi è integrato anche con gli altri comuni perché noi sappiamo che i comuni sono riuniti attorno ai pistri sono riuniti attorno ai pistri sono riuniti attorno diciamo così a strategie di aria vasta non soltanto comunale e quindi sono inseriti in questo contesto e il volante di questo è riuscire a portare lavoro attraverso infrastrutture che servono alla comunità e poi su questo diciamo e noi chiediamo con forza la possibilità diciamo di trovare il modo come dire di legge legale per poter attraverso anche i porti più sociali poter dare precedenza alle imprese locali che possono permettere di movimentare l'economia locale la seconda questione che poniamo la poniamo così perché è una misura estremamente complessa che è quella dell'evasione perché praticamente una società così come si sta sviluppando da noi è una società a due velocità c'è chi deve imprese deve pagare la qualunque salatamente il costo del lavoro enorme più tutte le altre cose e chi invece non paga assolutamente niente perché praticamente è fuori da ogni contesto di legalità qualcuno mi dice ma però bisogna anche campare noi diciamo invece con forza che questo è enormemente sbagliato uno perché se si paga tutti si paga di meno secondo un'economia che è regolare ha la necessità di avere una concorrenza leale e non sleale la terza questione è chiaramente legata alla semplificazione e alla scurocratizzazione ecco noi diciamo e chiediamo con forza che poi lo diremo anche nelle altre misure diciamo così strategiche noi siamo legati al fatto che l'Italia è piena di lacci e laggiore si comincia con il comune e poi via via per fare che sto un investimento ci vogliono anni vi ricordo per esempio una situazione ma ci può essere qualcuno d'accordo non d'accordo come dire abbiamo perso un miliardo di euro che è il gasificatore perché praticamente la motorizzazione stava per arrivare dopo sette anni quando ormai il gasificatore diciamo erano fuori mercato una questione veramente assurda che pone l'Italia così come è stato detto indietro di 25 anni ormai le nazioni anche queste del nord Africa ci superano abbondantemente noi siamo ormai troppo lenti quindi siccome le imprese nascono e nascono nei comuni è chiaro che il fatto che ci sia un'amministrazione che semplifichi è importante anche perché nel momento in cui non semplifica poi succedono tantissime altre cose spiegate l'altra questione è una questione delle tasse in particolare il modo dell'I.M.U. noi abbiamo posto con forza in tutti i comuni abbiamo fatto anche manifestazioni ce le abbiamo prese con tutti quanti i sindaci abbiamo fatto anche uno studio e il comune di Augusta per esempio il comune di Palazzolo per dire diciamo così all'I.L. all'Aliquota è lo 084 che non è il massimo lo abbiamo anche ci conoscere che non è il massimo alcuni hanno fatto addirittura il massimo possibile allora il ragionamento noi stiamo facendo una battaglia formidabile su questo e lo diciamo con forza l'I.M.U. messa in un laboratorio artigiano un laboratorio commerciale con una piccola impresa dove genera tasse su tasse e dove praticamente tante volte la casa il capannone l'obificio il negozio non è dell'imprenditore ma della banca mettere un'ulteriore tassa anche a livello altissimo significa scoraggiare chiunque praticamente è una assolutità è una una questione che è veramente soltanto diciamo così un governo tecnico poi magari messo diciamo di fronte alle strette diciamo dall'Europa poteva e questo diciamo ha svilito chiunque quindi noi diciamo per quanto di competenza ai candidati ai consigli comunali di applicare già lo diciamo prima e qui ci vediamo come si pongono i candidati di applicare la liquida minima che dice la legge poi noi al governo nazionale stiamo venendo perché questa tassa possa essere completamente abolita così come tante altre soprattutto quelle legate al costo del giusto riteniamo importante che le imprese possono essere pagate nei tempi giusti e consideriamo diciamo così che il Comune debba impegnarsi diciamo intanto a verificare le possibilità come come dire rapportarsi con la nuova tassa TARES che darà anche un ulteriore quello sulla raccolta dei giusti che darà un ulteriore colpo anche all'Etre invece per essere semplici sulle misure strategiche di programmazione che cosa chiediamo diciamo con forza ai candidati e quindi anche alle squadre che esiste intanto la revisione dello strumento urbanistico torniamo anche all'edilizio come volano dell'economia per il rilancio del centro storico e quindi chiediamo che possa essere diventare esecutivo il piano particolare poi chiediamo appunto che lo sportello unico per le attività produttive sia ancora di più funzionante e collegato a livello provinciale e poi anche logicamente regional chiediamo diciamo così una condivisione appunto di rilancio dell'area artigianale che qui a Colazzolo c'è e vorremmo impegnare vediamo cosa dicono i candidati anche con altri comuni a un piano di marketing territoriale che possa sarà magari difficile però è giusto farlo che possa permettere anche a imprese esterne di potersi allocare nel domone di pallone l'altra questione come proposta che facciamo stasera è quella di puntare sulle giovani imprese sulle donne che vogliono fare imprenditoriali e questo questo lo può fare se pagando tutti pagando di meno ci potrà essere una scontistica particolare quindi un abbattimento delle tasse nei confronti diciamo di chi vuole fare imprese giovanili anche nei settori che tradizionalmente sono tra i tanti per l'economia dei valutori penso che devono dire al beniculturale alla gastronomia all'agricoltura ecc l'altra questione che poniamo con forza è l'attivazione e la possibilità di interagire l'amministrazione nuova e quindi anche il consiglio nuovo con il centro commerciale naturale è molto importante perché il centro commerciale naturale che cos'è è un'arbrete di imprese sono imprese che si mettono insieme perché da soli sono sconfitte nei confronti della grande distribuzione che a sua volta ha grandi problemi ma se si mette insieme se l'amministrazione favorisce diciamo così le applicazioni di imprese specificatamente i centri commerciali e allora secondo noi può essere una questione anche importante per lo sviluppo poi chiediamo appunto dal punto di vista come dire turistico il rilancio e la pianificazione del prodotto Palazzola Crete che è un prodotto molto spendibile sia in provincia ma soprattutto nei mercati siciliani internazionali il patrimonio dell'umanità quindi un top che fa da traino anche per le politiche turistiche della provincia puntiamo all'idea di paese albergo quindi anche qui di aggregazione di imprese che sono nell'ambito della recettività collegate con i ristoratori che possono come dire dare un'offerta come dire unitaria di un di un'amministrazione di una comunità che poi deve rapportarsi con l'amministrazione chiediamo appunto che si possono attivare anche sinergie con gli altri enti regionali come la soprintendenza o anche la stessa azienda foresta per mantenere puliti i siti archeologici che sono presenti sul territorio la nostra associazione diciamo subito che già come dire vuole collaborare con di vincere le elezioni noi siamo collaborativi anche lunghe perché noi puntiamo al fatto che i problemi si risolvono ogni giorno quando in cui si vince si vince solo e esclusivamente a lavorare noi siamo anche come dire forse già ci candidiamo se come dire la nostra situazione ci vorrà coinvolgere anche per dare il nostro contributo come in servizio di mailing di promozione territoriale di problematiche che noi come associazione riusciamo anche a fare non soltanto come associazione ma anche degli organismi in cui siamo presenti perché siamo presenti per dire il GAL Valdanaco che fa molto diciamo almeno dal punto di vista tecnico e ci sarà un progetto per il rilancio della Valle dell'Anaco di Mantalica che coinvolge anche Palazzone l'ultima cosa che voglio dire è quella anzi collegata anche al rilancio dimenticavo del territorio del posto Palazzone c'è la questione dell'adego della denominazione comunale cioè dare una un certificato di provenienza ai prodotti comunali perché possono distinguersi e qui prodotti di eccedenza ce ne sono quindi non ci troviamo diciamo certamente in un paese da questo punto di vista svantaggiato che possa come dire attraverso i prodotti anche veicolare il riconoscimento unesimo l'ultima questione concludo è per noi importante il fatto che già il carnevale di Palazzone è un appuntamento importantissimo per la provincia ma noi vorremmo che anche di più si ci potesse spendere soprattutto nella di qualificazione delle maestranze perché lì attorno al Campanavale anche nascono artisti nascono c'è artigianato c'è turismo c'è diciamo ecco attraverso anche questi eventi chiaramente si riesce a mobilitare si riesce diciamo a dare un'anima a una comunità che vuole anche attraverso gli eventi spiccare il volo e quindi riuscire a trainarsi dal punto di vista economico quindi io diciamo questo è il documento che in sintesi ho illustrato io sono convinto e sono convinto ecco che nonostante tutto ce la possiamo fare sono convinto che chiaramente con la rassegnazione l'ultima è la cosa diciamo ecco che dobbiamo battere dobbiamo riuscire a fare emergere le energie soprattutto di giovani e non giovani che vogliono spendersi veramente in un contesto economico che ha cambiato definitivamente chi pensa che si possa tornare al passato quindi diciamo al lavoro pubblico o al lavoro forestale o al lavoro anche quello massicchio della zona industriale ha sbagliato profondamente ormai i modelli di sviluppo sono altri sono legati fortemente all'innovazione sono legati a chi fa rete chi sa competere veramente questo comune di Palazzone a mio parere può competere ha in sé le capacità per poterlo fare che chiamo ai candidati di dirci come intendono fare allora maestro dice il primo è il tuo candidato bravo Aiello bravo Aiello grazie 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 che bellissimo studiato quindi interrogato buonasera a tutti è sempre un piacere confrontarsi con chi ritengo sia il tessuto sociale di Palazzone mi sono diventato la nostra che ho visto Paolo logicamente anche la questione della legalità e anche l'importante che le associazioni hanno un compito fondamentale nell'ambito quando dicevo della regalità e della certezza del la dicevo grazie intanto per averci invitato è sempre un piacere confrontarci con quelli che riteniamo sia ancora oggi il tessuto economico di Palazzone è innegabile che la griffi ci sta travolgendo un po' a tutti chi ha un minimo di storia di impresa alle spalle chi oggi fa commercio chi oggi ha un'attenda artigiana va ringraziato va ringraziato perché ancora oggi almeno per chi come me in questo mondo ci vive ne ascolta le problematiche ne ascolta le stanze vanno ringraziati perché ogni mattina si alzano e combattono per non licenziare nemmeno un operaio di questa città immaginate Palazzone se la griffi riesce a travolgerci immaginate Palazzone senza pizzerie senza imprese emili senza senza le botteghe senza gli artigiani Palazzone diventa un paese dormitorio Palazzone diventa un paese fantasma il futuro infatti almeno per me per il gruppo con cui ho avuto il piacere di lavorare e di stilare un programma è l'artigianato l'artigianato perché perché se io ho avuto la sfortuna come me e tante altre ragazze della mia generazione di essere chiamati generazioni 1000 euro generazione 1000 euro perché siamo vittime di riforme del lavoro che ci obbligano ad avere contratti a 3 mesi a 3 mesi di contratti a progetto che non portano un reentrico di intero del lavoratore passato in 3 mesi 4 mesi e per chi li guadagna 1000 euro è già una fortuna magari hanno stipendi da 500 a 600 euro oggi invece penso che l'artigianato è importante perché sarebbe bello se ogni ragazzo di Palazzolo riuscisse a crearsi di lavoro a Palazzolo invece andando a cercare uno altrove e questo è possibile solamente favorendo l'artigianato spesso in questi giorni girando in giro con il mio gruppo con questa campagna elettorale il bello di fare politica dicevo l'altro giorno è pure questo perché se la politica diventa ascoltare le stanze degli ultimi ascoltare i problemi delle persone che magari nella quotidianità la politica allontana perché è presa dall'emergenza e quindi non può fare la normale amministrazione abbiamo ascoltato che ci sono molti problemi e i problemi sono soprattutto l'accesso al credito sono i problemi della liquidità sono i problemi dell'attusivismo come diceva lui su cui dopo mi so spermerò quindi cosa può fare un amministratore oggi che mi domanda ma tu se stai o il tuo gruppo cosa può fare io ho voluto dare un segnale abbastanza forte mettendo un artigiano un assessore all'artigiano Paolo Ferro è un faregnano e quindi chi meglio di lui potrà aiutarmi nel raccogliere le stanze degli artigiani dei commercianti di chi oggi ha un'impresa e sopravvive con l'impresa oggi abbiamo ascoltato delle imprese che hanno paura di lavorare con il pubblico io stesso ho avuto l'esperienza di lavorare molte volte con il pubblico non è un problema relativo soltanto a Palazzolo è un problema relativo a tutte le amministrazioni chi lavora guarda la sfortuna di lavorare una volta con il pubblico e la seconda volta non ci ricade più quindi bisogna iniziare un percorso condiviso che non è più a livello locale perché Palazzolo non è un'autonomia come sappiamo ma sottostate determinati regolamenti determinati le leggi e quindi in questo momento un amministratore che promette di dare lavoro attraverso coltimi fiduciari che promette di dare lavoro ai palazzolesi che promette di dare di iniziare non so quante opere è un amministratore che in questo momento sta mentendo perché chiunque l'ha entrato una volta al comune sa che i cassetti sono vuoti e sa che lo sviluppo del territorio può passare solamente attraverso l'artigianato e la protezione e il coinvolgimento in questi giorni in questi giorni infatti stiamo girando ho visto molti ragazzi che hanno iniziato a raccogliere le leggi dei padri quindi ho conosciuto ragazzi che stanno editando un'azienda per pulire la pietra e lavorare sulle le carte al cimitero ragazzi che stanno aprendo negozi quindi l'artigianato è da valorizzare perché per un futuro di Palazzolo passa attraverso l'artigianato e su questo non ci piove sull'abusivismo su cui si soffermava in questo momento di crisi è inutile far finta di niente tempo fa mi ricordo quando io ho iniziavo a 18 anni a lavorare a 30 anni c'era il famoso detto che senza mercato scagli la prima pietra perché? perché ognuno quasi tutte le aziende temevano avevano qualcosa a nascondere oggi non è più così oggi le aziende per lavorare hanno la necessità di essere corretti per legge hanno la necessità di avere certificazioni e quindi sull'abusivismo un'amministrazione però può intervenire come può intervenire? vi porto un esempio qualunque impresa edile è andata a Siragusa a montare la prima gampata di ponte dopo un giorno 24 ore al massimo 48 ore arriva il controllo della provincia dell'Ast dei vicini urbani a Palazzolo tante volte è inutile negarlo qua vediamo un ponteggio che si è alta la mattina e vediamo un ponteggio che si è alta la mattina quindi chi viene da fuori a lavorare a Palazzolo un amministratore può obbligare chi è obbligato a farlo ad andare a controllare se ci sono le certificazioni se questa impresa può venire a lavorare a Palazzolo perché mortificare le imprese ancora oggi pagano le tasse andandosi a indebitare anche per colpa della stessa amministrazione che ha dei debiti verso di lui che non può nemmeno andare a prendere tutti e allora l'amministrazione ha il diritto almeno in questa fase storica di far rispettare quelle regole che almeno fino ad oggi tante volte non è magari il caso di Palazzolo sono state rispettate ma almeno io mi prendo come impegno con voi con gli artigiani con i mercanti ma me se c'è un impegno che dovrà prendersi qualunque amministratore di far rispettare le regole a Palazzolo almeno per chi viene da fuori già in fase preliminare quindi in fase di presentazione di comunicazione preventiva in fase di TIA verificare se vengono fortificate le imprese perché la legge di mercato a Palazzolo viene a lavorare non possiamo chiudere i cancelli non possiamo chiudere i confini ma almeno cercare di non mortificare le aziende su questo territorio che ci lavorano e danno la lavoro ancora a tanti padri di famiglia che si stanno andando a interditare chi è del settore lo sa ha fatto investimenti e in questo momento la domanda a Palazzolo è ferma quindi in questo momento la cosa più importante è fare sinergia fare sinergia perché? perché Palazzolo è un paese è un piccolo condominio Palazzolo ci conosciamo tutti ed è basato sui rapporti umani quindi questi rapporti umani se riusciamo a portarli dentro l'associazionismo se riusciamo a portarli in un'associazione come il CNA che in questi anni comunque ha lavorato ha fatto marketing turistico nonostante non abbia avuto l'apporto dalle volte delle amministrazioni io so di Stefano che è andato in giro alla DIT è andato a fare le fiere nonostante nessuno gliel'abbia chiesto ma per apporti patria conosco commercianti conosco persone che partecipano di spese proprio alle fiere e non orta lì promuono il territorio promuono un territorio che ha tante possibilità ha tante ricchezze ancora oggi tutte da scoprire perché Palazzolo almeno sul turismo almeno sullo sviluppo economico ha ancora tanto da dire perché sia per la crisi che per una mancanza di progettualità oggi risultavo su questo se questo documento oggi è stato scritto è perché sono delle lacune che sono delle lacune che ci portiamo dietro da anni di amministrazione perché in campagna elettorale siamo tutti bravi a parlare ovviamente di sviluppo economico di turismo di beni culturali da valorizzare ma una volta che poi si va a governare con le normali emergenze tutti i giorni nella quotidianità tante cose si perdono di vista cosa che non deve più accadere pensando a una progettualità progettualità che deve per forza un sindaco ha più possibilità per avere progettualità o si circonda di persone in grado di poter progettare interventi che in questo momento la comunità mette a disposizione e la comunità europea mette a disposizione o riesce a crearsi quindi un gruppo che riesce a progettare a dare le solidarie progetti che sono necessari ai rilanci di palazzolo oppure deve per forza affidarsi all'associazionismo che a palazzolo è forte i commercianti a palazzolo hanno dimostrato più volte di essere uniti tante volte qualcuno ha provato a dividerli e c'è riuscito ma in questo momento penso che sia arrivato il momento di non essere più divisi ma di essere uniti uniti per servire in questa comunità e uniti per rilanciare un territorio che troppe volte è stato mortificato da chi tante volte ha rinnegato lo stesso territorio nel documento leggevo il problema della sicurezza il problema della sicurezza noi lo vogliamo affrontare ovviamente più un territorio è sicuro più vengono fatte rispettare le regole più un territorio diventa appetibile per gli investimenti esterni palazzolo ovviamente non è un paese come Catania come Palermo non è un paese dove c'è un alto tasso di criminalità lo dico perché per anni ho vissuto dentro una caserma per anni soli dal di Palazzolo e Palazzolo ancora oggi è una realtà bella è una realtà pulita chi fa in breve tante volte denuncia riesce a denunciare se viene se si trova in difficoltà abbiamo un'associazione Miracchiet che fa scuola in tutta la Sicilia quindi l'associazionismo a Palazzolo può esistere e può diventare un unico gruppo che può pensare veramente a fare progettualità per Palazzolo quindi per la sicurezza occorre intervenire più che altro sul senso civico come dicevo prima Palazzolo è un paese che si è passato per anni sui rapporti umani questi rapporti umani vuoi per la crisi vuoi perché le famiglie sono distratte vuoi perché i ragazzi forse hanno perso perché vedono gli amministratori vedono in me vedono in chiunque un non attaccamento che magari c'era qualche anno fa a Palazzolo quindi bisogna intervenire più sul senso civico che magari mettendo l'esercito per strada o intervenendo con le videosorveglianze che è un ottimo un'ottima un'ottima soluzione almeno per gli acchi per le zone del centro storico in cui la domenica mattina troviamo obiti troviamo vomito troviamo residui dei weekend delle notti brave ma penso che Palazzolo a Donocci possa dire la sua sia in ambito economico soprattutto perché è un territorio sano pulito e dove l'artigianato può ancora dare risorse soprattutto ai giovani e di questo l'amministrazione deve per forza forsi carico deve dimostrare ai giovani che l'artigianato ancora con Palazzolo è possibile farlo deve dimostrare che ci sono i mezzi per poter ricominciare a fare artigianato basta pensare ai fabbri basta pensare alle imprese installatrici che sono scuola di fotovoltaico in questa sicilia abbiamo a Palazzolo le migliori aziende che stanno in fotovoltaico abbiamo a Palazzolo i migliori fabbri gli ebanisti abbiamo a Palazzolo i migliori faregnami quindi non è vero che sull'artigianato non bisogna puntarsi ma sull'artigianato passata questa crisi lo considero eroi gli artigiani che sono sopravvissuti a questa crisi e che sono riusciti a far portare ancora a casa a qualche parte di famiglia di Palazzolo uno stipendio a Palazzolo senza frontonarsi troppo dalla città che amiamo e che vogliamo per quanto riguarda il centro storico ho messo un altro tempio nella mia squadra che è l'ingegnere Luciano Ferra e siamo andati a vedere che c'è un piano nel centro storico che risale al 1995 è un piano che per pari motivi si è fermato ed è un piano che o si vinca o si perda qualunque forza politica deve rimettere in gioco subito fin dai primi giorni perché l'unico mezzo per riportare l'ossigeno alle imprese edili che sono ferme in questo momento e soprattutto per dare sicurezza anche a chi da fuori vuole venire a comprare una casa e ripartire da quella famosa idea di paese albergo io non posso comprare una casa a Palazzolo nel centro storico dove poi anche per mettere una grondaia o per fare la lontana piccione ho bisogno di 200 autorizzazioni ho bisogno di non riesco a montare il pontezzo non riesco a trovare chi mi porta quanti la pratica alla sovrintendenza quindi c'è la necessità di sbloccare in questo piano del centro storico che è l'unico mezzo a attuare e di facile anche attuazione in quanto in consiglio comunale una volta che c'è la voglia di fare squadra la voglia di fare sinergia per dare la possibilità a Palazzolo di rilanciarsi penso si trovi la strada comune è una strada per correre assieme per poter dare la svolta alle imprese di Palazzolo grazie 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 ok il primo cantetano è un bel dubbio c'è il notario Civetta Civetta è un bel dubbio è un bel dubbio diciamo sull'artigianale in generale sulle pinte per me di interesse essendo chiaramente il sindaco scendo è il dovere di andare a sottolineare quale sono le cose fatte perché ho sento l'esigenza un po' di evidenziare in alcune cose devo dire che Palazzolo la Greta il PRG già ce l'ha dal 2009 e nell'ambito del PRG non lo dico solo perché effettivamente abbiamo fatto il PRG e quindi mi devo alvo incensare del PRG nell'ambito del PRG noi già abbiamo individuato due aree antigenali un'area antigenale in via nazionale e l'area antigenale in contratto devo anche dirvi ed è una delle cose delle quali chiaramente abbiamo una fiera come amministrazione che l'area antigenale di Lugnale è stata completamente organizzata i lotti sono completamente diciamo una cosina assegnati e i vari carabinoni già realizzati tra l'altro ma è questo un corso di realizzazione perché ne dicono questa cosa perché ne avere individuato le aree antigenali è un fatto estremamente importante noi dobbiamo distinguere le due cose nella poteca antigenale da quella che invece nell'esigenza di avere per un'attività produttiva dei carabinoni che sia una norma di legge più di carabinoni se in industriale allora appala solo ma dobbiamo essere soddisfatti perché abbiamo un'area antigenale urbanizzata con dei carabinoni che sono tutti a parte nell'ambito del PRG con il discorso di Gianno Cosime e di Lucidia abbiamo previsto l'ambiamento della zona artigianale di Contratto a Mecugnarelli tra l'altro l'assessorato urbanistica che ha autorizzato già in questo ambiente e siamo pronti per partecipare a un eventuale bagno che lo aspettiamo dall'assessorato regionale che lo aspettiamo da circa due anni speriamo che il governo non è cocento sia attivo in tal senso per poter presentare il nostro progetto di ampliamento della zona artigianale perché perché ci rendiamo conto che se da un lato la bottega artigianale deve continuare a trovare la locazione all'interno del centro storico o del centro abitato rispettando la normativa di gente dall'altro lato se pensiamo che la bottega si deve evolvere in piccola media impresa non possiamo ipotizzare che si evolva all'interno del centro storico cioè dobbiamo dare la possibilità a un'impresa di potersi ampliare e lo facciamo all'interno dell'area artigianale dove oltre ai servizi noi dovremmo assicurare e questo nel progetto tiene ampliamente presso anche quella che è diciamo la minima sicurezza col sistema di video punto di sembrianza oltre ai servizi che dobbiamo andare a fare da quelle operazioni di sinergia da quegli interventi di assistenza da che a questo punto quando le attività sono localizzate su un'unica area lo possiamo andare a fare con le organizzazioni professionali di categoria con l'istituzione locale con quelli che in qualche modo interventano i miei processi di scala dell'antività ma aspetto molto importante noi pensiamo alle zone artigianali anche come ampliamento non solo per poter attrarre capitali dall'esterno perché a Palazzolo già sono venuti degli imprenditori che chiedono dei lotti nella nostra ammettività ma pensiamo all'ampliamento anche per evitare l'urbanizzazione del territorio quindi guardate che è estremamente negativa questa norma inserita nella finanziaria ai tempi di Buffano che in caso di un'area artigianale satura consente agli imprenditori di fare dell'attività produttiva in verdi agricoli è una norma estremamente delicata e noi ne andiamo diverse nell'attività produttiva in verdi agricoli dove l'attività produttiva si vagna a concretizzare nel verde agricolo però poi ne manca di servizi per questo è importante l'ambiamento della zona di generale di contrattere il suo per la certificazione lo dico con soddisfazione il comune di Palazzolo è il primo di attivare il suo non perché la città del sindaco che l'amministrazione mi guarderei bene ma perché ci sono due dipendenti e ne devo dare altro un dipendente comunale una contrattista che fin dall'inizio hanno creduto al suo insieme all'amministrazione e fin dall'inizio si sono partuti di Palazzolo oggi il suo Palazzolo è funzionante ed è funzionante con la penchia e con la firma digitale noi chiediamo di avere le pratiche direttamente per piede le matiche perché è la cosa migliore è la cosa più semplice e poi li inciniamo dopo averle istruite li inciniamo a quelle che sono gli organi competenti per il rilascio perché parlo di istruttore parlo di istruttore perché qui rientra il concetto di assistenza che il comune deve dare che io mi sforzo sempre di ricordare il dipendente comunale che siamo il front office della necessità del giovane o dell'imprenditore di aprire l'attività produttiva allora quando vediamo online oppure raccomandiamo prima di mandarlo online di venire in ufficio andiamo ad osservare quali sono le cose che vanno le cose che non vanno e diamo quelle indicazioni utili per poter inaltrare nella cosiddetta Dio o la cosiddetta Messia perché questa cosa è importante è importante per un motivo molto delicato nella Dio nella Sciia si fanno autocertificazioni con molta leggerezza e l'ente dovrebbe poi intervenire con la fase repressiva per questo dico a tutti state attenti a quello che autocertificate soprattutto in termini di agibilità dei locali e guardate che questa è una cosa estremamente delicata da qui la necessità per questo l'abbiamo scritto nel programma di avere nella zona di ampliamento dell'area PIP di avere anche il centro servizi dove attivare in maniera sistematica e costante quell'azione di monitoraggio quell'azione di assistenza che è necessaria perché io sono convinto che un giovane che deve fare impresa ha bisogno in questa giugna di leggi di essere eseguito di essere assessibile da qui la necessità di convergere istituzione locale con le organizzazioni professionelle di categoria per fornire l'assistenza migliore al giovane per fornire l'assistenza migliore all'imprenditore e anche che già fa impresa ha difficoltà in questa marea di leggi a potersi orientare e guardate noi quando ci sono delle cose che non vanno prima li mandiamo a chiamate poi se è necessario diciamo li informiamo via utilizzando già quella che è la firma digitale ma questo chiaramente per quelle imprese e quelle attività che già hanno i sistemi informatici e allora qui è importante l'accordo tra istituzioni e organizzazioni professionelle di categoria o tra istituzioni e libri professionisti è necessario che chi è che non ha il sistema informatico perché non è che tutti hanno il computer a casa o tutti hanno la vecchia o tutti hanno la firma digitale è necessario perché ci sia questo accordo questa sinergia in modo tale che snelliamo i tempi perché le imprese di Liettola solo la maggior parte non ce le hanno questa cosa è sfido bene uno deve pensare all'orario non è che può pensare all'avvento o alla firma digitale quindi è importante che si entri in sinergia diciamo le parti per aiutare gli operatori del settore il centro commerciale naturale con grande soddisfazione assisto alla nascita del centro commerciale naturale sottoscritto quindi l'istituzione del consorzio della società per il centro commerciale naturale così come sono estremamente contento che il centro commerciale ha partecipato al bando regionale si è giudicato diciamo il finanziamento e ora diciamo di ritorno collaborerà con l'amministrazione anzi al contrario l'amministrazione collabora con il centro commerciale naturale per poter spendere queste risorse l'info è chiaro che avremmo evitato anche di aumentare questo punto percentuale ma di fronte a uno Stato lo ho detto nel comizio che ti taglia i trasferimenti già in corso d'opera con quelle che sono le manovre di assessamento questo è quello che ha fatto lo Stato a luglio del 2012 ci ha costretto a intervenire sull'info con un punto percentuale ma se li andate a guardare rispetto alle 21 municipalità tra quelle che non gli hanno votato i consigli vedete che la maggior parte delle municipalità l'info della seconda casa dell'attività produttiva l'hanno portato chi ha il 9,6 e chi ha il 10,7 noi l'abbiamo limitata all'8,6 devo dirvi che con questa situazione economica e finanziaria non si può abbassare al di sotto dell'8,6 a meno che lo Stato in un ragionamento che secondo me dovrebbe essere il ragionamento intelligente che in questo momento non lo vede intelligente decide di togliere proprio l'info sull'attività produttiva altrimenti come la dobbiamo rilanciare questa occupazione come la dobbiamo rilanciare questa attività produttiva sto spendendo l'info sulla prima casa mi pare più che altro il demagogia e il populismo lo scendiamo a vedere l'attego noi l'attega già ce l'abbiamo l'attego ce l'abbiamo il regolamento c'è dobbiamo attivarci soltanto per diciamone così portare avanti il marchio ma io non credo un marchio di balanzò io credo al marchio del territorio al marchio del territorio per le carni al marchio del territorio per il turismo per questo un pochino partecipo in maniera attiva a quelli che sono i dauri di concentrazione territoriale in Galli in Piste in Ete lì ci confrontiamo ci scontriamo cinema in qualche modo alcune volte ci buttiamo le sedie al costo ma ci dobbiamo credere non può essere una scommessa di singola municipalità è una scommessa di territorio o ci vendiamo come territorio e tendiamo di itinerare del territorio o come municipalità non andiamo dove andare e questa è la cosa solamente importante chiudo perché avrei da dire tante altre cose ma chiudo due le criticità la liquidità cioè quando noi prendiamo un sistema economico così piccolo gli togliamo 2 milioni e mezzo 2 milioni e 600 mila euro come perlute in un anno e mezzo è chiaro che a tutti scompare la liquidità dall'Emp alle prese a qualsiasi cittadina perché c'è una volta 2 milioni e 600 mila euro 2 milioni non ce li danno come trasferimento è quasi 600 mila euro col libro del 2012 ci hanno tolto l'ossigeno non abbiamo protestato solo perché mi sento e ci sentiamo pezzi dello Stato ma come ufficiale di pubblica sicurezza un simbolo è pezzo dello Stato ma è chiaro che se continuano ad andare avanti così la rotessa ci deve essere forte non si può fare diversamente per poter accorciare i debiti di pagamento intanto lo Stato deve rivedere questa norma il decreto legislativo 192 del 2012 non si può non si può ipotizzare che lo Stato prende in giro un comune o prende in giro le attività produttive con un decreto legislativo dove dice tu devi pagare a 30 giorni ebbene dammi tu i soldi per pagare a 30 giorni tu non solo mi fai la legge per pagare a 30 giorni e poi mi do gli soldi ma non è contraddittoria questa cosa stiamo vivendo delle contraddizioni paradossali evidenti chiare alle quali non ci stiamo neanche opponendo ma questa tasa deve passare basta perché non può essere solo il comune o solo le attività produttive a pagarle basta devono capire che o si fa una legge coerente e si individuano delle linee durature le politiche economiche durature ma non si va più a me ora speriamo nel decreto 35 questo di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione i debiti ma che significa debiti e il ritardo che è il comune che ha la provincia che ha la ragione nel pagare diciamo le cose di imprese e questo ritardo è che cosa ha dovuto all'eliminazione dell'Ici ci invece lo scrive l'Ici come se ce la dovevano trasferire non l'hanno trasferita in buona parte in Italia trasfermente regionale e stradale e ora vanno dei debiti guardate che i debiti sono tutti messi nel primaggio abbiamo bisogno dei soldi soltanto per poter pagare e sapete come andremo a pagare molto probabilmente faremo un mutuo trentennale per pagare quindi paghiamo i debiti con un ulteriore debitamento per la politica e il comune grazie salve Luca buonasera a tutti seguo gli altri candidati sindaco in piedi perché voglio guardare tutti perché è importante guardare tutti è importante sentire sia che si sia da questa parte più che dall'altra parte e così via io sono stato invitato sono ospite di questa sera e quindi ho accettato le regole di questa sera io tempo fa avevo chiesto agli altri due candidati sindaco un confronto all'americana che è ben diverso da questo tipo di confronto perché vedete il confronto all'americana è fatto con molte risposte il confronto all'americana è fatto in piazza il confronto all'americana permette di partecipare tutti tutti significa non solo quelli che ci sono questa sera ma anche tutti quelli che stanno fuori di questa sala e quindi io ho fatto quel tipo di confronto moderato con un giornalista perché è l'idea democratica di confronto all'americana così questo evento è un evento sostanzialmente in cui magari guardo le facce il 50% di voi sono comuni cittadini l'altro il 50% sono artigiani e piccoli e medi imprenditori e questo cosa significa che un evento del genere può indurre ad una cosa che abbiamo visto fino al momento attuale che può essere giusta da un certo punto di vista che è il tecnicismo amministrativo perché quello che bisogna ammette si può amministrare politicamente si può amministrare tecnicamente e quindi io voglio spostare il discorso più su un punto di vista politico perché io grazie al direttore Palazzone si vincere alle elezioni vorrò essere un sindaco politico amministratore non un sindaco tecnico perché qual è la grossa differenza fra queste due visioni del modo amministrativo il sindaco politico è quello che riesce a fare sistema a fare un discorso sistematico ad avere una visione ad avere un sogno come io dico sempre un'organizzazione mentale ed esecutiva di quello che è il sistema paese io quello che dico sempre sia dal punto di vista economico e di sviluppo io non parlo mai di questo che è più di quella cosa o più di quell'altra io parlo del sistema paese perché io fin dal primo comizio ho sempre detto il paese è come un corpo umano come il corpo umano non può stare senza occhi non può stare senza orecchie non può stare senza bocca non può stare senza cuore il paese è lo stesso e quindi bisogna considerarlo tutto nell'insieme il sindaco politico fa proprio questo guarda il paese nel suo insieme non sui singoli progetti che arrivano e quindi io siccome voglio essere questo io come sapete ho girato molto sono stato molto fuori ho visto varie varie regioni e vari modi di amministrare anche i piccoli paesi e io vi racconto una bellissima esperienza che ho fatto perché c'è una similitudine in questa esperienza che ho fatto vado per un matrimonio che è la fine settembre dell'anno scorso vado nel Salento e vi racconto quella che è la visione che io ho sempre raccontato a tutti lasciando il mondo dell'industria pesante dell'ilba di Tavant che la strada è quella vai verso il Salento il Salento che tutti pensiamo una regione una regione della cui è retratissima e più vai avanti più trovi campi e più vai avanti la nostra che è vicino al Salento e più tu trovi distese di olivi distese di viti e poi al centro di questi campi vi trovate grandissimi cartelloni pubblicitari di un evento più di una mostra di un di nuovo io questo sistema non lo capivo riguardando i paesini io uno si accorge che tutta la politica economica del Salento si basa su questo agricoltura trasformazione turismo e loro campano così loro il giorno e il pomeriggio fanno i massali fanno i trasformatori del loro prodotto le olive raccontano ancora da terra la vite producono trattori commercializzati trattori e la sera fanno turismo vado a Lecce e vai lì i monumenti non si possono girare senza il comune tu li vedi da fuori va al comune al cassello di Carlo V dove c'è la sede dell'ufficio turistico e lì entri in un circuito da cui non vieni fuori 15 euro ti fanno girare tutta Lecce tutti i monumenti dentro e fuori e poi dove li portano? li portano dagli artigiani li portano a girare le botteghe di cartatestare perché lì a Lecce c'è la cultura della cartapesta ti portano a girare chi lavora in legno gli antichi mestieri tutto con cui dicevo e poi alla fine io chiesto alla guida di dove sei un list di marzamemi di noto quindi gente che è andata via da qui per fare per fare turismo lì noi nel nostro programma abbiamo scelto degli indirizzi economici perché abbiamo descritto gli strumenti attuativi con l'indirizzo economico noi abbiamo scelto turismo agricoltura artigianato e quindi commercio stiamo pensando al paese nella sua totalità e nel programma che io non ho portato dietro perché oggi ho dovuto fare vari giri ci sono come ho detto allo scorso pubblico ci sono gli strumenti attuativi noi diciamo anche determinate cose come andarle a fare ora gli impegni che voi chiedete tramite questo documento programmatico è un impegno che voglio dire si sottoscrive pienamente ma vi faccio una cosa che già è stata detta se queste cose voi avete scritte significa che lacune ci sono ora che siano lacune di sistema che siano lacune locale che siano lacune europee queste cose ma io dico ognuno per gradi deve sapersi prendere le proprie responsabilità affinché tutto questo diventi esecutivo io potrei entrare anche nel merito dei vari punti ma tutti questi punti fin dai comodi noi ce li abbiamo inseriti nel nostro programma di cittadini attivi per palazzolo vedete vi dico ancora un'altra cosa qualche simpaticone ci prende in giro perché nel comparto agricoltura ora sta ridendolo in fondo non per dargli troppa importanza ma ci ha preso in giro per un punto che per noi è di fondamentale importanza che sono il ritorno alla coltivazione delle pere è un punto che ci è piaciuto mettere ma semplicemente perché mentre c'è qualcuno che ci scherza bisognerebbe forse ritornare a parlare con i nostri nonni perché qualcuno forse si ricorda che tanti sto parlando di decenni fa ogni mese dell'anno avevano una tipologia di pera ci sono stati fatti degli studi in merito di genomica e sono tutte coltivazioni scopparse quando noi siamo andati in giro per le campagne e abbiamo detto beh in determinate perché non ricominciamo a fare questo lavoro perché potrebbe essere la sotticoltura potrebbe ritornare ad essere trainante gli agricoltori ci hanno detto una cosa fondamentale dottori che ho ci potevo fare basta che qualcuno mi aiuta e qui entra in campo un altro discorso importante che è il discorso di interfacciamento con la regione Sicilia io l'ultima cosa che voglio dire prima di chiudere è guardate una cosa che della presenza del presidente Crocetta al mio fianco e al fianco di questa amministrazione non se ne può fare folklore perché a scanso di equivoci la cosa è reale ed è un legame non momentaneo ed è un legame per il futuro di Palazzolo non per ottenere chissà quali benefici vado a andare a portare loro a Palazzolo ma sicuramente per ottenere interlocutori istituzionali che sono forse quelli che fino a questo momento sono mancati io non sono uno a cui piace fare tutto da me perché non ne avrei la capacità come è stato magari fatto fino a ora in cui la figura del sindaco è stata una figura di totipotenziario che è una persona che fa tutto quasi tutto io penso che ora più che mai almeno questo sta accadendo nel nostro progetto politico le compagini assessoriali sono io lo dico sempre ai miei voi avete almeno per i nominati poi per quelli che verranno dopo avrete il compito di galoppare avrete il compito di galoppare perché siete voi che dovrete andare in regione Sicilia insieme a me ma è prima muovervi dovete essere voi perché voi siete gli amministratori insieme a me io non sono da solo e quindi ritorna quello che è il concetto estremo che io vedo di squadra quindi io mi sento di appoggiare tutto questo progetto soprattutto voglio non sono dimenticato una cosa importante io ho incontrato Progetta domenica sera ci siamo messi a parlare di una cosa di fondamentale e di un'importanza che sono praticamente le leggi speciali per il centro storico come voi sapete noto ed altre parti di città come è stato anche per Ragusa e Ilpla hanno ricevuto quattrine che dicevano a tuttora con leggi speciali per il centro storico quindi transia per il piano particolareggiato ma io farò e ne abbiamo già parlato una richiesta a Progetta per una legge speciale anche sul centro storico di Palazzolo poi del turismo ne abbiamo parlato cosa c'era la certificazione ah una cosa importante in una situazione qui duro in una situazione di crisi dell'ente una cosa secondo me di fondamentale importanza e in questo non voglio entrare minimamente in quelle che sono le scelte di altre compagini amministrative quello che noi abbiamo scelto è il taglio delle nostre indemnità come sindaco del futuro se dico o qualsiasi tra parentesi degli assessori e sicuramente anche delle delle indemnità per consiglieri perché per noi questo è un messaggio molto importante in un momento in cui si odia la politica io vi dico una cosa quest'anno Palazzolo forse per il primo anno vedrà a questa tornata elettorale il più alto livello di astensione forse della storia politica di questo paese e democratica di questo paese e la disaffezione al voto che la verrà su tutti noi la disaffezione al voto ci dovrebbe far riflettere su cosa non è stato fatto cosa si può fare e dove soprattutto noi vogliamo portare il paese per essere credibili noi abbiamo deciso di mettere questi soldi a disposizione per tutta la comunità per il fondo di sicurezza sociale e per voglio dire riuscire a pagare qualche impresa voglio dire che aspetta ancora soldi questo è il nostro impegno a prescindere dalla crisi quindi il mio è un messaggio di positività e come voi sapete sempre il mio moto insieme si cambia grazie abbiamo il diritto di replica se c'è qualcuno lo può scondare con la carta si vedete cominciamo un piccolo appunto solo per dire che come dicevo prima Parazzolo almeno dal mio punto di vista si appoggia molto sui rapporti umani tra le persone una tornata elettorale che viene vissuta rispondo a quello che diceva Luca prima il fatto del confronto io personalmente non ho voluto fare un confronto perché è stata una campagna elettorale abbastanza forte in cui almeno il mio gruppo è stato duramente attaccato anche dal punto di vista personale quindi quando si attacca dal punto di vista personale non vedo come si può condividere un confronto con il 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 confronto hanno ricevuto altri attacchi ma quando si ci scontra così duramente in campagna elettorale non vedo come può avvenire un confronto democratico a tre in un altro luogo e vorrevo riferirmi sempre al fatto che noi dietro di me dietro il mio gruppo non abbiamo crocetta non abbiamo politici non abbiamo tessere di partito noi puntiamo molto sulla condivisione del progetto che va per quello perché noi vogliamo rendere partecipi tutti e vogliamo dare una volta per tutti la dimostrazione che se le cose si progettano per bene se c'è la progettualità nelle cose se le cose si fanno per bene come diceva Paolo Ferra al comizio non esiste una carta a Palermo dove c'è scritto non aprire questa porta ai non esperienti o a chi non ha dietro di sé un politico forte i progetti che fanno avanti e abbiamo le prove sono andati avanti anche senza politici la consulta di Palazzolo giovanile può mandare una serie di progetti fatti da un candidato che è candidato con me Signorelli che senza l'aiuto di nessuno sono andati avanti e sono stati progetti di inclusione sociale sono stati progetti di fare rete la tante grande rete che qui tutti oggi parliamo da tanto tempo si fa a Palazzolo e se non si è fatta per bene è proprio perché come dicevo prima non c'è stato mai un gruppo ma tutto è stato affidato sempre a una singola persona in grado di poter portare avanti determinati discorsi e determinati percorsi oggi come dicevo prima c'è bisogno solamente di essere uniti senza divisioni e con questa unità si può giocare gran parte del futuro palazzolese come siamo sempre stati abituali a farlo senza che nessun politico venisse da fuori insegnarci come essere palazzolesi o come sviluppare il nostro territorio bravo venirei arrivi adesso bravo Velocemente, se questo è definito sindaco tecnico, io mi sono sempre definito tale. Tra l'altro per me politica significa servizio della città, non significa appartenenza all'articolo, e questo l'ho sempre detto. A questa forza sono le idee. Quando queste idee non continuano neanche con il Presidente della Regione, glielo diciamo e glielo diciamo con il coraggio di dire quello che si fa. Grazie a tutti. Sulla stessa linea, sulla stessa strada e indipendentemente di tutto, nell'11 gennaio sono convinto che bisogna collaborare per l'interesse della comunità. Chiudo dicendo che dobbiamo confondere le competenze regionali con quelle che possono essere le competenze comunali. Il campo di collezione di Pero, l'ho fatto io come sorte, l'assessorato regionale agricoltore foresta, non è andato avanti perché l'università non ci ha creduto. E se non ci crede l'università che deve migliorare né in materiale né varietà né locale, non abbiamo dove andare perché l'assessorato a un certo punto si è bloccato. I finanziamenti per i campi di collezione sono stati tolti completamente. Noi abbiamo dei progetti di sistema, ma lo dovete fare dire. Per me, il frigo facendolo, è la struttura strategica per fare risollevare la zolecchimia, così come l'area antigenale non a caso non è calzata. E' la struttura attorno a quale deve essere lanciata alla piccola e media presa, quella che ha bisogno di interventi e soprattutto ha bisogno di immobile che siano in linea con le cooperative emergenti. Il fondo delle autonomie locale. Noi, vi dico, abbiamo fatto una battaglia, la continueremo a fare con tutti i sindaci della provincia e non solo. Quando da un lato si riduce il fondo delle autonomie locali, si taglia. Dall'altro lato, poi, con sistemi di, diciamo, negozioni politici di bassa lega, si dà il milioncino al comune di Nocote per il centro storico. Che, tra l'altro, quest'anno non c'è più e penso che sarà anche l'ultimo anno per la Cusa Isla. Quindi noi facciamo le cose in maniera lineare e le facciamo insieme alle altre municipalità perché dobbiamo crescere insieme, non ne andandoci a raccomandare nel politico di turno. E vi assicuro che una delle prossime battaglie è quella di ripristinare il fondo delle autonomie locale, non quelle di lasciare andare le prigio delle varie municipalità in base all'omolevole di turno. Grazie. Una breve replica. Io avevo detto che di questa cosa avrei preferito che non se ne facesse folklore. Invece vedo che, voglio dire di questa cosa, se ne fa folklore. Quello che voglio dire è che qualsiasi campagna elettorale, caro Polizio, qualsiasi campagna elettorale è tuttora. E non ci sono campagne elettorali tenere, perché le campagne elettorali tenere si fanno nel momento in cui qualcuno ha un lecito interesse per farle tenere. Quello che voglio dire è che le campagne elettorali vere sono sempre puntate. Sono sempre anche all'ultimo sangue. Dal punto di vista politico, dico. Noi ci dobbiamo fermare a valutazioni politiche e stop. Quello che dico è che il confronto all'America è un atto di democrazia. Che tu non ti voglia confrontare perché ritieni una campagna elettorale troppo dura o che è stata troppo dura è un problema tuo. Perché tutte le campagne sono dure. Perché quando fanno i confronti all'Americana in città come Roma, dove non ci sono, o Torino, dove non ci sono interessi di pochi soldi, ma dove ci sono interessi che né tu né io e forse neanche loro sanno, lì la politica o la sai fare di città con tutti i tuoi piedi e ti prendi annessi e connessi oppure non lo fai. E' un concetto di responsabilità di una scelta, come l'ho fatta io, l'hai fatta anche tu. Un'altra cosa importante, come a proposito di quello che diceva Carlo, io questa sera sto affrontando, come vedete, un confronto non la volevo sebbene, come si dice o no, ma la non famose male. Nel senso che non sono questi i luoghi di confronto serrato politico per la campagna elettorale. Politico significa saper programmare il futuro, guardare al futuro, fare sistema. Purtroppo l'accezione di oggi di politico è appartenere a un partito politico. Allora, io credo nel sindaco politico, non nel sindaco politicizzato. Oddio, ci possono essere sindaci politici inzalati, ma lo dobbiamo fare sindaco politico. Rosario Colocetti in questo momento è presidente della legge siciliana, di qualsiasi colore lui sia. E' una carica istituzionale, è la maggior carica istituzionale a livello siciliano, è una delle più alte cariche dello Stato. Quindi il suo, no, 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 anche il presidente, permettetemi, il presidente della regione Sicilia e anche tra le cariche più importanti dello Stato. Qualcuno mi può dare confermare? Chi non lo sapesse la terza carica dello Stato è preparato al ministro degli interni. Bene, grazie. Quindi noi ce l'abbiamo con noi dal punto di vista di, scusate sto finendo, di carica istituzionale. Non perseguiamo, scusate, non perseguiamo mezzucci o, diciamo, come posso dire, scorciatoie. Non siamo, e questo lo dica anche Amorizio, noi proni ai voleri di questa più che di quell'amministrazione a rivendicare di essere malabsolesi è una cosa importante. Ma, oltre a rivendicare questo orgoglio, rivendicare anche una dignità, una dignità che arriva anche tramite passaggi politici. Questo è importante perché da soli, e in questo do ragione a Carlo, da soli non si va da nessuna parte. E poi, se ci sono delle cose, le ho chiuso, importanti per il Paese, con chi si fanno? Va bene, basta che si facci con queste cose. Ok? Grazie. Allora, mi pare che il confronto ci sia stato. L'abbiamo organizzato in questa maniera, perché noi siamo, come dicevo prima, associazione imprenditoriale e anche sociale, quindi andiamo al cuore del... Mi dispiace se faccio un intervento e dico, ma è un intervento di pronto... Allora, eh? No, è aperto solo ai candidati a sì. Però io vorrei che tu parlassi di quello che è successo ieri sera, io solo di questo volevo parlare. All'inizio, no, no, lui sta dicendo una cosa, perché ieri sera abbiamo fatto una discussione al Cine di Mie. Io vorrei che tu quello che è successo ieri sera avessi il coraggio di dirlo... Non termo all'inizio, all'inizio. All'inizio, scusami. Ho parlato all'inizio delle difficoltà... Ma non le difficoltà, ma le difficoltà, ma le difficoltà di aziende. Sì, sì, sì. Abbiamo parlato all'inizio, abbiamo detto anche l'aspetto, diciamo così, di povertà in cui molti piccoli imprenditori si ritrovano perché non hanno nessun paracadute dal punto di vista del welfare, dello strato sociale, eccetera. Quindi abbiamo detto all'inizio, io voglio ringraziare tutti, lo farà Mascia per noi, perché è importante che per noi, come dire, noi ci caliamo nella campagna elettorale per approfondire le questioni. Poi ci sono tantissimi altri confronti, comizi, eccetera, che continueranno a fare anche, come dire, parlando di altre cose. Quindi io, per quanto riguarda dal punto di vista provinciale della CNA, mi auguro che ci sia, diciamo, un confronto anche sereno dopo la campagna elettorale per che abbiamo la necessità di fare, come dicevamo prima, squadra, di fare rete anche a livello provinciale, di muoverci tutti insieme perché il momento è talmente, ripeto, è drammatico che c'è la necessità che tutti, facciamola ognuno alla nostra parte, la facciamo bene. Adesso do la parola per la conclusione a Mascia. Per non stancarvi, sono molto breve, intanto voglio ringraziare tutti i candidati perché è giustamente molto facile, se mi sposti in questo momento della crisi politica, avete visto che ognuno di loro è diverso, ognuno di loro ha il programma diverso, però io vorrei ritirare al fuoco nella cariggiava, diciamo, della questione. Questa riunione è stata pensata non per la politica, non per loro, sono loro tre, quattro e due. Questa riunione è stata pensata per voi perché noi dobbiamo capire che cosa sta succedendo, che cosa sta succedendo, quali sono i programmi e quello che noi abbiamo proposto, questo è un documento programmatico per l'artigenato e le piccole e medie imprese, e diciamo, a nostra volta è un programma nostro che noi proponiamo. E qua in questa sede noi non vogliamo chiedere niente, noi offriamo il nostro supporto a qualsiasi futuro sindaco, a qualsiasi futuro, diciamo, amministratore, governo, gruppo, squadra, magari, in questo paese, noi offriamo quello che pensiamo, quello che abbiamo citato qua, pensiamo che questi sono i passi molto concreti, non sono stati scritti dai tecnici di altro mondo, sono stati scritti dagli imprenditori del nostro paese. Cioè questa è l'espressione di quello che vogliamo noi. E allora questa è la riunione proprio stata pensata per questo. Io spero che per tutti quanti sia stata una cosa molto utile per conoscere non soltanto i precandidati, ma anche la nostra secezione. Questa secezione che è molto presente sul territorio, io penso che è una dei più presenti sul territorio, non soltanto della provincia, ma anche regione, e soprattutto sul territorio nazionale. Noi siamo abituati a lavorare in sistema, perciò quando noi parliamo del sistema paese, questa è una cosa che è molto vicino a noi. Questa è un'associazione molto sveglia, dove lavorano i ragazzi giovani, che sono attaccati alla vita, non piangono, ma rinventano questa vita. Perché noi dobbiamo sapere che la crisi, soprattutto, è un cambiamento. Non dobbiamo piangerci addosso, perché le crisi ci sono state sempre e ci saranno sempre. Questo è un cambiamento. E vi posso assicurare che tantissime aziende sono pronte ad accogliere questo cambiamento, a cambiare loro stesse, però un'azienda non può andare a fare questo cambiamento così radicale senza un supporto dalla parte dell'amministrazione. perciò questo è il motivo per cui siamo qua. Noi offriamo il nostro supporto, il supporto degli imprenditori, il supporto dell'associazione di categorie, però, da altra parte, noi altrettanto vogliamo vedere il cambiamento. grazie. 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 grazie.